quella del 2023 potrebbe diventare una delle peggiori vendemmie della storia simile a quelle catastrofiche del 1948 del 2007 del 2017 per restare all'ultimo secolo lo rivelano i dati diffusi dalla col diretti secondo cui la produzione in italia scenderà 43 milioni di ettolitri contro i 50 milioni dello scorso anno in molise rivela l'associazione di agricoltori in alcune zone la vendemmia si annuncia tra le più complesse degli ultimi anni con un crollo fino al 60 per cento dei grappoli da raccogliere quello vinicolo insieme alla frutta di stagione è il primo settore che paga in modo inequivocabile il pesante dazio agli effetti del cambiamento del clima che fra eccezionali ondate di calore e maltempo con pioggia e grandine ha danneggiato i vigneti la produzione nazionale si parla al momento di stime potrebbe essere in calo del 15 per cento ma con punte fino al 50 per cento nel centro sud facendo segnare per questa zona il peggior risultato del secolo il prodotto sarà comunque di qualità ma per quanto riguarda il grado alcolico molto dipenderà dalle precipitazioni delle prossime settimane e dall'evoluzione delle temperature compito non facile per i viticoltori che devono stare sempre più attenti alla scelta del giusto momento per la raccolta dell'uva e della lavorazione in cantina